La macchina è ormai ben rodata, è infatti il nono sbarco dei migranti a Ortona, macchina coordinata dalla prefettura di Chieti. Domani e martedì 106 migranti arriveranno sulla nave Humanity One, salvati a largo della Libia dalla ONG tedesca al porto di Ortona, dove saranno accolti e poi trasferiti in contrada a Tamerete, un vero e proprio hub messo a disposizione dal comune per tutti gli accertamenti di rito. Provengono per lo più dal Bangladesh e dalla Siria, ci sono otto donne tra le quali una in stato interessante, 11 minori non accompagnati. Di queste 106 persone però solo una parte resta in Abruzzo, come ci riferisce il vice prefetto di Chieti Gianluca Braga. Sì, per domani mattina è atteso l'arrivo della Humanity One con 106 migranti a bordo, tratti in salvo in due diverse operazioni. L'arrivo è previsto per le ore 8 di domani 25 giugno, per cui la macchina è in fase di allestimento, la macchina organizzativa ed operativa, secondo le consuete procedure ormai rodate presso il porto di Ortona. Di quali nazionalità sono questi migranti? Il gruppo è abbastanza variegato, possiamo dire le due provenienze più numericamente corpose sono dal gruppo del Bangladesh e a seguire un gruppo cospicuo di siriani, più varie altre nazionalità rappresentate in misura inferiore. Donne, bambini, minori e non accompagnati? Sì, la composizione è abbastanza variegata anche rispetto agli ultimi due sbarchi, anche il numero è un po' più elevato, per cui abbiamo sempre una maggioranza di uomini, ma sono presenti anche 8 donne, di cui una in stato di gravidanza, e 14 minori, dei quali 11 non accompagnati, che verranno sistemati tutti in strutture della regione Abruzzo, rimarranno quindi da noi in regione. Tutte 106 queste persone resteranno da noi in Abruzzo? No, questa volta considerato il numero un po' più elevato, divideremo l'accoglienza con altre regioni, secondo un piano di riparto predisposto dal Ministero dell'Interno, per cui in 45 resteranno in Abruzzo, compreso appunto il gruppo degli 11 minori non accompagnati, un gruppo di 31 sarà trasferito nella regione Marche, nelle province delle Marche, e un ulteriore gruppo di 30 migranti sarà trasferito in Basilicata. Sì, sono stati salvati a largo delle coste libiche, è stato assegnato il porto di Ortona come porto di approdo, dalle autorità italiane, secondo le consuete procedure ormai consolidate, per cui domani attendiamo l'arrivo dell'imbarcazione e metteremo in moto la consueta macchina operativa fatta di due fasi, quindi l'accoglienza in banchina al porto e poi il trasferimento quasi immediato presso la struttura nella zona artigianale di Ortona, in Contrada Tamarete, messa a disposizione dal Comune di Ortona, è una sorta di mini hub dove ormai svolgiamo tutte le operazioni post sbarco che ci consente appunto di operare in tranquillità e di accogliere nel migliore dei modi i migranti anche sotto l'aspetto del ristoro, oltre che naturalmente della valutazione dal punto di vista sanitario e di tutte le procedure amministrative di polizia, per poi da lì imbarcarli sui pullman e verso i centri di destinazione.